Noi ieri abbiamo parlato di Italia, abbiamo parlato di Italia, abbiamo parlato di lavoro ed è il fatto che siamo di fronte a un dramma, qui abbiamo il 28% di disoccupazione giovanile che ci avvicina più al Maghreb che all'Europa e abbiamo un'intera generazione che sta perdendo le prospettive di vita, allora questo è il problema numero uno, ne abbiamo discusso, ne stiamo discutendo e noi lavoriamo per un processo di unificazione del sistema dei diritti per quel che riguarda il mondo del lavoro e per una stabilizzazione maggiore del lavoro dei giovani, si stanno discutendo diverse soluzioni tecniche, arriveremo alla nostra definizione in breve tempo, l'occasione della nostra assemblea che è convocata per il mese prossimo, vorremmo che tutta l'Italia e tutta la politica discutesse di quel problema qui, che è un problema di regole del mercato del lavoro, ma è un problema anche di creare un po' di lavoro, perché le regole non è che da solo danno il lavoro, allora noi siamo in un momento di crisi senza precedenti e stiamo riducendo gli investimenti in questo Paese, noi bisogna che aumentiamo un po' gli investimenti, che diamo un pochino di spinta a questa economia se vogliamo dare qualche occasione di lavoro, è possibile che nella più grave recessione del dopoguerra noi si riduca gli investimenti pubblici, ma è una cosa assurda e è assurdo ancora di più che non si riesca a discuterne. Ecco, ieri noi nel nostro campo politico abbiamo cercato di dare anche l'esempio di un partito che discute del Paese, anche se poi vedo che le cose come vengono spesso raccontate si occupano un po' più di aspetti marginali, francamente. Allora, uno dei problemi degli investimenti non solo pubblici ma anche privati nel Paese è la presenza di una forte criminalità in Italia. Berlusconi e Maroni e anche Marina Berlusconi oggi nella lettera scritta Repubblica rivendicano il fatto che questo governo ha fatto moltissimo contro la Camorra, contro l'Andrangheta, contro la mafia, iniziative pesanti, forti, arresti che, dice Berlusconi e il PDL con lui, non erano mai stati fatti prima. Questi dovrebbero, questi, diciamo, segnali dovrebbero arrivare anche agli investitori internazionali. D'altra parte però Berlusconi ha anche detto che scrivere, parlare di Gomorra, fare le fiction sulla piovra rende la nostra mafia, che è al sesto posto nelle mafie internazionali, quella al centro dell'attenzione. Roberto Saviano gli ha controrreplicato, appunto, scrivendo su Repubblica. Lei che cosa pensa di questo scambio, diciamo, tra Berlusconi e Saviano e che cosa pensa dell'opera del ministro degli interni Maroni sulla lotta alla criminalità? Io penso intanto che le forze dell'ordine, nella lotta alla grande criminalità, stiano facendo il loro mestiere, stiano ottenendo dei risultati. È giusto anche che il ministro degli interni li rivendichi quando ci sono. Mi pare meno giusto metterci sempre sul cappello della propaganda. Vorrei ricordare, non so se lo ricorda anche lei, che un mesetto fa ci fu un tantam mediatico a una riunione del Consiglio dei Ministri su una famosa legge anticorruzione. La legge anticorruzione. Berlusconi fa la legge anticorruzione. Vorrei chiedere, c'è qualcuno che sa dov'è finita quella legge? C'è qualche giornale che ha scritto, non lo so, ma dov'è finita? Ma l'hanno fatta quella legge? Perché non mi risulta. Ecco, questo è il mondo nel quale siamo. Un mondo nel quale un presidente del Consiglio ritiene una libera opinione dire sostanzialmente che chi scrive di mafia e di camorra, alla fine in ultima analisi, fa un piacere alla mafia e alla camorra. Cosa dovremmo concludere? Stiamo zitti? Siamo zitti. Chiudiamo la bocca anche Saviano. Mi parlano affermazioni francamente sconsiderate anche per chi le dicesse al bar, ma naturalmente dette poi da un presidente del Consiglio, per l'amor di Dio, oggi sento che viene rivendicata la libertà di opinione, ma per l'amor di Dio, libertà d'opinione c'è, ma si può dire che un'opinione è una sciocchezza e si può dire che certe opinioni un presidente del Consiglio non dovrebbe esprimerle? Questo credo che si possa dire. A proposito di opinioni, Bersani, ieri avete parlato anche di comunicazione di RAI ed è affiorata una cosa che mi risulta non nuova, fuori i partiti dalla RAI. Lei lo sa che lo sentiamo dire anche da voi del PD, che poi invece avete avuto PD, PDS, eccetera, eccetera, avete avuto larga parte anche nella scelta delle poltrone della RAI tradizionalmente. Ecco, questa cosa qui fuori i partiti della RAI è riecaggiata anche ieri. Cosa c'è di diverso segretario con lei ora alla guida del PD rispetto alla storia dell'intromissione dei partiti nella RAI degli ultimi 50 anni? Ripeto, sinistra inclusa. Ma c'è di diverso che ho detto una cosa semplice, cioè che c'è una goccia che ha fatto traboccare il vaso. Cioè le ultime elezioni abbiamo visto la chiusura del talk show, un'intera settimana occupata dal presidente del Consiglio anche nella TV pubblica con effetti evidenti sulle elezioni e la settimana dopo il presidente del Consiglio che si lamenta della RAI TV. Ecco, basta. Allora, la novità è che ieri abbiamo detto e deciso di presentare un progetto di legge che nel senso fuori i partiti della RAI, cosa vuol dire? Vuol dire che quella è un'azienda che deve essere ricondotta al codice civile, deve avere un amministratore delegato, eletto, nominato con elementi di garanzia, quello che si vuole e deve poter... ...come si agisse in un'impresa indipendente. Se non ci sarà questo, io ho aggiunto che a questo punto noi riconsideriamo tutta la vicenda e la struttura, diciamo, che sta attorno al sistema pubblico radio e televisivo. Perché con tutta evidenza, diciamo, queste bardature di consigli di amministrazione e di commissioni di vigilanza, con tutta la buona volontà dei partecipanti, non sono strutturalmente in grado di garantire indipendenza e pluralismo al servizio. Quindi lei, segretario Bersani, dice che l'attuale struttura, il presidente di garanzia, le commissioni di vigilanza, non ce la fanno a rendere indipendente la RAI? Io dico che quella struttura che viene, con tutta evidenza, non ottiene il risultato di dare piena indipendenza all'azienda. Molto chiaro. E non garantisce che l'azienda possa ragionare in quanto tale. Noi abbiamo avuto negli ultimi due mesi un'azienda che si è autopicconata. Si è autopicconata. Questo non può esistere, perché la RAI è un'azienda. Eh, questo è il punto. Segretario, Umberto Bossi ha detto che i nostri risultati elettorali sono andati bene, vogliamo le banche, le banche del Nord. Quando un'intercettazione colse Piero Fassino che chiedeva a consorte allora abbiamo una banca, ci fu chi, a mio avviso, giustamente, si scandalizzò. Con Umberto Bossi, come è andata? Ma le cose sono un po' diverse, perché adesso abbiamo una banca, vuol dire hai una banca, vuol dire che il movimento cooperativo, in quel caso, come soggetto sociale, economico, eccetera, eccetera, si ingaggiava in un settore che era quello finanziario. Ora qui stiamo parlando di un partito che sta dicendo, bel bello, papale papale, io come partito, come partito, prendo in mano, voglio mettere becco nella banca. E vedo che reazioni anche dal mondo industriale, eccetera, sono piuttosto tiepidi, c'è qualcuno che ha per fin detto, ma ha un'ipotesi interessante. Io suggerirei questo, ma se i leghisti vogliono fare un piacere che era le pic.